L'incontro, l'abbraccio e la condivisione delle terribili esperienze di 20 giovani donne liberate dalla schiavitù del racket della prostituzione. È stato questo il gesto del venerdì della misericordia di agosto di Papa Francesco che nel tardo pomeriggio ha visitato nella zona nord di Roma la struttura della comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Donoreste Benzi, accompagnato dall'arcivescovo Rino Fisichella. Accolto dal responsabile generale della comunità Giovanni Paolo Ramonda, l'assistente spirituale Donaldo Bonaiuto, due operatori di strada e la responsabile dell'appartamento, il pontefice ha ascoltato a lungo le storie delle giovani di età media di 30 anni provenienti da Nigeria, Romania, Albania, Tunisia, Italia e Ucraina. Tutte hanno subito gravi violenze fisiche e vivono protette. Hanno mostrato al Papa le ferite subite e raccontato drammi come quello della ragazza appena arrivata che si è ritrovata a partorire sulla strada da sola e a vedere il suo bambino morire tra le sue braccia. Nel suo saluto Francesco ha chiesto perdono per tutti i cristiani, cattolici che hanno abusato di voi e anche perdono per me per non aver pregato tanto per voi e per questa schiavitù. Il Papa ha richiamato ancora la società e i governanti all'impegno di combattere la tratta degli esseri umani, che a più volte è definito come un delitto contro l'umanità e una piaga nel corpo dell'umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo. Prima di lasciare la casa famiglia, Francesco ha benedetto e abbracciato una a una le giovani e lasciato loro un piccolo aiuto economico.